Allora, per prima cosa ovviamente noi abbiamo proceduto per garantire la sicurezza degli spettatori. Abbiamo cercato di fare il meglio in tempi veramente molto stretti perché le comunicazioni verbali dell'autorità competenti sono arrivate a fine agosto e noi abbiamo subito cercato di trovare le soluzioni. Abbiamo verificato che alcune soluzioni potevano essere possibili mettendo mano e facendo dei lavori in maniera tempestiva sulla gradinata, quella lato Ancona che è stata costruita nel 1981, quindi un po' datata ma non vecchissima e quindi abbiamo cercato di capire come intervenire al meglio per preservare appunto il bene pubblico e l'incolumità delle persone che devono andare allo stadio per vedere uno spettacolo e non percorrere rischi. Quindi abbiamo pensato di momentaneamente prevedere due tribune prefabbricate, una tribuna da 500 posti per gli ospiti dietro la porta vicino, diciamo lato mare, vicino agli spogliatoi. Ovviamente sarà una tribuna da 500 posti che è il minimo che la Lega Calcio impone e sarà recintata in maniera tale da poter garantire la sicurezza di chi gioca. Sarà alzata una rete alta 6 metri per garantire appunto che nessuno possa lanciare oggetti in campo e queste attività modificheremo anche l'ingresso per gli ospiti, non più da via Vivaldi ma da via Toscanini e quindi modificheremo anche e miglioreremo se volete la sicurezza legata all'ordine pubblico. Per quanto riguarda invece i tifosi locali, quelli più numerosi in genere, monteremo una tribuna aggiuntiva come si faceva in passato, per chi ha più memoria si parlava di tribuna distinti, la monteremo da 300 posti tra la curva e la tribuna centrale, quella coperta, lì quindi ci staranno i tifosi locali che non potranno più usufruire della gradinata. La soluzione è ovviamente passata al vaglio delle autorità competenti, a breve inizieremo i lavori i lavori dovrebbero finire per il 20-21 di settembre quindi nell'ipotesi in cui il Fano possa disputare la prima giornata in trasferta e fare la seconda in casa dovremmo avere lo stadio perfettamente praticabile con dei disagi ovviamente legati al fatto che comunque ci sono due tribunette nuove ma non dovremmo far perdere nessuna partita al Fano Calcio.